Io ricordo, sì, a proposito di Marlene Kunze in formazione, ricordo una compilation, era una raccolta di demo, non mi ricordo, con XL di Repubblica, ancora in versione cartacea. Sì, sì, me li ricordo. Sì, esatto. Quanto sei vecchio Enrico. Tantissimo. E comunque, certo, questa cosa è affascinante da una parte perché c'è stata una costruzione coerente di un'identità, di voler raffermare qualcosa, a prescindere dal medium di riferimento, sia il testo di una canzone sia un testo così esteso. Poi, possa essere condiviso o no? A noi a un certo punto interessa poco, però forse quello che potrebbe essere veramente un punto su cui concentrarci è la necessità anche di vedere questa figura che è sempre più duplice, bipartita, prismatizzata, come tutto in questa epoca storica qui, di critico, ma anche artista che non dovrebbe occuparsi di critica, come abbiamo politici che in realtà però sono degli intrattenitori. Quindi, c'è un osmosi costante, non è che c'è più una divisione dei ruoli. Non so dove questo abbia origine, lo chiedo a te. Secondo me è un po' anche quello un frutto di un certo modo di fare. Su Rolling Stone, ad esempio, fino a qualche tempo fa, non so se ancora scriva, c'era anche il parere autorevolissimo del grande storico della musica, nonché grande musicista, nonché, come tu dici, Padre Nobbi è insieme a Stephen Wilson di questo podcast, Manuel Agnelli, quindi non so dove. Io, ecco, sempre Tim Godano, se dobbiamo metterci, se dobbiamo fare questa civil war, ma al di là di questo passaggio qui, io ti dico, a me perché è piaciuto quest'articolo, non è raro in senso stretto che un musicista, specie di questa tipologia di scena musicale, si esprima ora al di là dell'influencer di Instagram, dei tempi moderni, signora mia. Però è molto interessante perché mi sembra che Godano si faccia un sacco di domande e abbia un sacco di dubbi. Cioè non arrivi ad una... ad evangelizzare, come spesso fanno queste rockstar qui che vi spiegano la verità, no? Come può fare un Piero Pelù dal palco del primo maggio... Mamma mia! O a tagliare con l'accetta. Cioè Cristiano Godano prende il suo bravo computer e scrive un articolo lungo e articolato, peraltro su più di un tema, perché io immagino il titolista, quando ha preso il pezzo di Godano, e avrà cominciato a sudare freddo, perché come condensi in un titolo tutte le cose che lui ha detto, perché ci sono almeno tre grandi filoni in questo articolo. Una riflessione su Spotify, i colossi del web, Amazon. Una riflessione su come contrapporsi e come non contrapporsi, secondo Godano, allo strapotere di questi giganti del web. Un passaggio sul complottismo e sulla sua strutturale vicinanza alla destra. E oltre a questo, tante altre piccole suggestioni che probabilmente un'altra persona avrebbe esteso per... avrebbe utilizzato per scrivere sei articoli. Lui vuole mettere tutto insieme, ha una gran voglia, una gran carica per parlare di qualcosa. Quindi è un articolo proprio sentito. Secondo me è proprio una cosa sincera quella che lui dice. Personalmente per me è anche molto condivisibile. E mi fa molta simpatia il fatto che sia sostanzialmente un testo moderato e conscio delle proprie contraddizioni interne. Lui sa benissimo di criticare lo Spotify di turno, l'Amazon, il colosso del web. Sa perfettamente che non ne può prescindere nelle sue condizioni. e te lo scrive come appunto dicevi tu, la band che lambisce i confini del mainstream. Non può rifiutare le logiche completamente. Lui lo sa perfettamente. Per cui io l'ho trovato proprio un testo genuino di un autore che forse per una volta... non che lui lo faccia, ma intendo un po' lo stereotipo che ci immaginiamo della Rockstar quando interviene sui temi con la T maiuscola, sociali con la S maiuscola, qui c'è proprio la volontà di mettersi in gioco e non di catechizzare nessuno. Credo che lui volesse esprimere un problema, un dubbio, delle contraddizioni, cose che non vanno di moda sulla stampa italiana e coinvolgere il suo pubblico. tant'è che buona parte della parte finale è dedicata a uno scambio che lui ha avuto con un fan un po' complottaro. Sì, infatti proprio su questo aspetto mi piacerebbe anche un po' focalizzarmi perché da una parte l'artista può liberamente esprimersi proprio perché parla di sé già un pubblico. Adesso sia un pubblico mainstream o a meno. il fatto che sia abituato a capire anche le logiche di un certo tipo di mercato, di un certo tipo di comunicazione che ben si rifà a questo articolo qui. Ovviamente qui lui parla di campi estremamente eterogenei, abbiamo visto lui parla con Spotify, con Amazon. Ovviamente il presupposto è quello di quel saggio, appunto, il capitalismo della sorveglianza, però poi lui va molto a contestualizzare anche a bisogni personali. E l'artista ha da sempre, secondo me, quando diventa, questo parolone impegnato, una visione di insieme del tutto di come funzionano i meccanismi di diffusione della cultura, della parola, dell'opinione, della tendenza, perché ci sta dentro e che con quello vive. Cioè l'artista è anche parte dell'algoritmo, è la cifra che permette all'algoritmo di funzionare molto spesso. E in una società come la nostra, in cui sostanzialmente la comunicazione è intrattenimento, e quindi la musica diventa intrattenimento stesso, queste cose vanno sempre più a concidere. Ed è chiaro che parlarne diventa forse anche una necessità. Cioè un artista che si esprime con chiarezza e con sentimento, come dici tu, dovrebbe essere la norma. Non sempre è così, e lo sappiamo, perché tante volte prima citavamo Iagnelli, potremmo citare I Morgan, potremmo citare appunto Piero Pelù, tante volte incarnano più una certa estetica di quello che dice, quello che il pubblico vuole sentirsi dire, o che devono parlare per forza difficile, che tante volte in realtà poi portano a non comunicare niente. Qui lui parla in modo molto esteso, a volte si perde proprio, come se le stesse pensando al momento su alcune lucubrazioni che magari potrebbe ridurre in termini di spazio, però poi segue un percorso che è suo, e se ne frega anche abbastanza di quello che possono dire gli altri, di quanto sarebbe più facile spalare merda contro il complottismo, perché poi lascia anche tante porte aperte e ci fa capire quanto i simboli della nostra contemporaneità di cui lui parla siano estremamente, vagamente simbolizzabili. Cioè, la prospettiva che lui ci racconta, ed è paradossale che ce la racconti appunto proprio un artista, ci racconta di una fase in cui nulla è effettivamente quello che potrebbe sembrare in ogni senso, perché a un certo punto arriva addirittura quasi a giustificare alcune teorie che un buon senso di un certo tipo oppure un artista di rottura andrebbero o a difendere la spada tratta o ad attaccare direttamente. Lui invece riesce un po' a smussare gli angoli e a far capire come in fondo tutte queste cose possano perfettamente convivere in questa dimensione strana, veramente strana in questa realtà paradossale che con la pandemia in particolare stiamo continuando a vivere. È interessante che ci sia la coincidenza, io poi ovviamente ho sempre i miei totem. Questa settimana ha pubblicato un video che in realtà era stato registrato per un concerto benefico per i musicisti di Gaza, Roger Waters, con un suo vecchio brano riscritto e questo brano si chiama The Bravery of Being on the Range, cioè il coraggio di essere fuori dalla portata e risale al suo disco del 92, Amused to Death. Bene, questo disco si ispirava a un saggio di un sociologo americano che è Neil Postman che appunto è divertirsi a morire, Amusing Ourself to Death, e che ci racconta come nella nostra, nella società mediata, nella società mediata dalle televisioni in particolare, l'immagine pubblica e la parola pubblica sia l'immagine ovviamente a prevalere e quest'immagine deve essere talmente variegata nel modo in cui deve raccontarsi che il pubblico arriverà a avere piacere nel prendere posizioni sulle guerre che si combattono chissà dove. Tu dici cosa c'entra magari con Godano? Effettivamente niente, però mi risulta interessante è che è un'artista che ha un'estrazione totalmente diversa, che forse rientra anche nel mainstream, nel mainstream molto più di Godano, nella medesima settimana riporti in gioco con un video in cui mostra Regan, quel saggio lì accusava particolarmente Regan come figura che dall'inizio ha questo tipo di narrazione televisiva e Godano parla anche lui di media tramite un altro punto di vista, non si rivolge più a Regan ovviamente, con un saggio più recente, però anche qui ha un'artista che ne parla, coincidenze però che comunque li stanno, ecco. Assolutamente, ma io guarda del pezzo di Godano quello che mi è piaciuto è proprio il respiro ampio. Non conoscevo questa iniziativa di Roger Waters o meglio, le iniziative di Roger Waters per Gaza, quante ne vuoi, però quest'ultima la soppersa. Ma in ogni caso... Oh no, no, ma figurati. Penso sia rimasto uno degli ultimi a interessarsi effettivamente di questa tematica. Ma il punto secondo me è che mi ha fatto... mi ha molto colpito del pezzo di Godano perché di musicisti che parlano ne abbiamo tante, di musicisti che parlano con grandi dubbi e cognizione di causa ne abbiamo molti, molti, molti meno. No? E allora anche Godano affronta tra le tante cose che affronta un nodo importante sull'informazione che credo faccia parte, lo dico provando un po' a proiettare quello che ho capito io personalmente del pezzo di Cristiano Godano, quindi magari mi sto lanciando in territori un po' inesplorati. Secondo me il punto è una perdita di punti di riferimento che ha Cristiano Godano. Cioè, in qualche modo, come se tutto necessitasse di un'analisi molto, molto, molto profonda perché mancano dei punti di riferimento, delle stelle polari. quando lui fa un lungo passaggio su BioBlu, come dicevamo prima, su Claudio Messora, lui affronta una, forse inconsapevolmente, forse no, la retorica che trova sul sito di BioBlu. Il governo ci vuole morti, il governo vuole distruggere le classi media e soprattutto le PMI, le cita lui, sto riprendendo dal suo articolo, grazie al lockdown il virus è uno strumento per far fallire il mondo, Covid, truffa mondiale, il nostro governo da 30 anni a questa parte ha aderito al piano globale satanista che mira a distruggere le democrazie, dando un potere illimitato a quelle poche famiglie che possiedono circa l'80% della ricchezza del nostro pianeta. Il complottismo di destra ha sicuramente, soprattutto quando si mescola con satanismo e radici più o meno legate alla religione, una lunga storia, ma il complottismo fino a un certo periodo era più legato alla sinistra che aveva invece più motivi di temere il complotto, tutti questi titoli, queste frasi, queste esternazioni folli e fascistoidi sicuramente, anche se Bio Blu stesso sostiene di combattere il fascismo della finanza, eccetera, eccetera, e tutte queste fesserie qui, diciamo che mi sembra che in generino una in qualche modo un senso di smarrimento. Una volta avremmo saputo identificare chiaramente, questo penso che anche Godano lo ritenga vero, avremmo saputo identificare un po' più chiaramente anche le argomentazioni, i temi e le sfumature e di tracciare una linea di confine e a volte questo non è possibile perché la battaglia in questo momento per tornare alle categorie che usa Godano stesso, di tracciare di tracciare di tracciare